ma che invece poti fissare e esprimersi nei limiti del decido, senza essere ingracciati. Continua ad aiutare gli uomini oggi ad essere uomini liberi, liberi di esprimersi liberamente, di fare ciò che esprimersi in oggi, ovviamente di rispettare la libertà a tutti, di scegliere, di vivere completamente la vita in mezzo agli altri, di confrontarci con gli altri, di partecipare attivamente alla vita della nostra società. Vogliamo concludere con le parole di ricordato alza. La persecuzione con i due titoli è propria di tutti i decimi sconici e parterebbe questo per farsi nomare la vicina. Grazie per la portata. Grazie. 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 Grazie.